cammina, cammina basta per il bambino, cammina serato basta cammina oh, c'è giù, che si sta eh? non è un problema, non è un problema non è un problema, non è un problema non è un problema no, no, guarda tutto è di cosa da portare eh ehi, ehi, ehi ehi, ehi ragazzi ragazzi, perfetto tutti ci facciamo per questo caso oh, 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 oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, 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 oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh Scusate a venire! Una cortenata c'era lì! No! 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 Ma me hai chiamato oggi! L'ho visto no! No! L'ho visto tipo tre ore d'oro! No! Non è bene! Ma gli italiani è mica sitaliani! Gli italiani è mica sitaliani! Non lo capisco! Me levo ragà! Non è bene! Non è bene! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. appuntamento. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 bravi bravi ragazzi. a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.